Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Appenile a un lancio di palloncini bianchi per l'ultimo saluto al piccolo Edoardo Offre prestazioni sessuali ai passanti e poi li deruba Arrestata dai carabinieri una rumena di 27 anni Grazie alla segnalazione di un cittadino i carabinieri ritrovano bici rubate nei capannoni dell'ex zuccherificio Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia Edoardo Serafini il bambino di 8 anni che ha perso la vita venerdì scorso in un tragico incidente stradale Un volo di palloncini bianchi ha concluso la messa funebre per Edoardo Serafini Il bimbo di 8 anni e mezzo che venerdì scorso ha perso la vita lungo la strada comunale della selva Dove è volato dallo scooter del padre finendo sotto le ruote di un mezzo agricolo Piene di speranza cristiana le parole pronunciate dal celebrante il parroco Don Giuseppe Tintori Dio non vuole la morte dell'uomo perché ci ha creato per essere immortali ha detto durante l'omelia E ce lo testimonia Gesù E' stato colpito un bambino innocente ma di una cosa sono certo ha precisato La morte non è la fine di tutto ma è l'inizio di una nuova vita Per questo la chiesa di Fenile è stata allestita festa con addobbi floreali di girasoli, tappeti, canti gioiosi, candele e un cero pasquale simbolo della ressurrezione Edo che era contento di fare la prima comunione è vivo nel cielo e noi lo abbiamo accanto tutti i giorni Questo non toglie il dolore a concluso ma darà la capacità di dargli un senso Don Giuseppe ha voluto leggere anche la lettera che il vescovo Trasarti ha inviato alla famiglia Serafini Lo speciale dolore dei genitori L'agonia di perdere un figlio è incomparabile La morte di un bambino è la morte dell'innocenza Una parte dei genitori muore quando il figlio muore ha scritto Sua Eccellenza Forse perché il futuro con tutti i sogni e le speranze va in frantumi Riprendersi dalla perdita di un figlio richiede pazienza, tempo e duro lavoro Ma se mettiamo Cristo dentro la barca della nostra vita non affonderemo Fidatevi e affidatevi, ricordatevi nessuna lacrima scorre in vano Commovente invece il Padre Nostro ha recitato dai compagni di classe, dell'oratorio e dagli amici di squadra Che tenendosi per mano si sono stretti attorno alla bara bianca in cui è stato composto il corpicino Poco prima una preghiera per il papà Alessandro ancora in ospedale Perché posso affrontare con forza questo dolore affinché Dio infonda nel suo cuore tanta pace Prima di proiettare un video con immagini del bambino La zia ha avuto la forza di leggere una poesia di Charles Pegui L'amore non svanisce mai La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto Io sono io, voi siete voi Ciò che ero per voi lo sono sempre Datemi il nome che mi avete sempre dato Parlatemi come mi avete sempre parlato Non usate un tono diverso Non abbiate un'aria solenne o triste Continuate a ridere di ciò che vi faceva ridere insieme Sorridete, pensate a me, pregate per me Che il mio nome sia pronunciato in casa come lo è sempre stato Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza La vita ha il significato di sempre Il filo non si è spezzato Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri? Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vista? Io non sono lontano, sono solo dall'altro lato del cammino A parlare infine anche il presidente della scuola di Carcio Junior Sant'Orso Claudio Dionisi Che ha affidato il piccolo a Luciano Eusebi A lui infatti è intitolato il torneo di calcio A cui padre e figlio si stavano recando quando è successa la sciagura Il destino crudele ha voluto che tu non venissi, ha detto La tua medaglia l'abbiamo data al mister Vieni a prendere quando vuoi Ora vai, rispondi alla vocazione Ma non scordarti delle scarpette Lassù c'è tanta gente e tu sei stato scelto Tranquillo, c'è tempo per migliorarti Ora fai parte della squadra d'elite Il campionato del paradiso Piccolo grande campione con le ali Facci onore I carabinieri di Pesaro hanno arrestato una rumena di 27 anni Che offriva prestazioni sessuali ai passanti E poi li derubava La donna riusciva con destrezza a impossessarsi di monili e di denaro Sentiamo come faceva Una rumena di 27 anni, Ciurar Elena, è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto Per furto aggravato con destrezza, con strappo e minorata difesa dai carabinieri di Pesaro Ritenuta la responsabile di almeno tre furti ai danni di uomini La tecnica usata dalla donna, affiancata da una complice, era molto semplice Adescava uomini di mezza età proponendo prestazioni sessuali a poco prezzo nei pressi dell'ipercop di Pesaro E una volta portati fuori dalla portata delle telecamere Gli si buttava letteralmente addosso strappandogli via collane e braccialetti con destrezza Il bottino ammonta a quasi 3.000 euro Con una serie di approcci avvicinava le vittime all'interno nei pressi di un supermercato Parliamo dell'ipercop a Pesaro Le vittime venivano condotte fuori dal supermercato Ma questo riteniamo che possa essere avvenuto anche in altri luoghi, sempre a Pesaro Quindi lontano da delle camere indiscrete E qui poi andava avanti con discorsi anche a sfondo sessuale Quindi approcci di questo genere Naturalmente discorsi che poi le consentivano di avvicinarsi alla vittima In qualche modo portavano poi a ollo strappo della catena in oro che avevano al collo Oppure al furto con destrezza del portafogli o dello stesso bracciale che qualcuno delle vittime aveva al polso La denuncia di un pesarese di 50 anni derubato di una collana d'oro del valore di 1.700 euro E la visione dei video di sorveglianza i carabinieri hanno potuto individuare la donna E' importantissima la denuncia immediata da parte delle vittime nei confronti alle forze dell'ordine Ci consente naturalmente la denuncia di raccogliere nell'immediatezza quelli che possono essere tutti gli elementi di prova Per quel genere di reato, per quello che si è verificato e quindi anche raccogliere ad esempio immagini delle telecamere Che a distanza di tempo non potremmo farlo E quantomeno anche testimonianze nell'immediatezza come effettivamente sono risultati utili nei casi di specie Dove anche dei cittadini che si sono trovati in qualche modo ad assistere agli episodi Poi hanno fornito la piena e ampia collaborazione ai carabinieri Ora sono in corso ulteriori indagini per risalire alla sua complice I carabinieri di Fano invece grazie alla segnalazione di un cittadino Hanno potuto recuperare alcune bici rubate che hanno poi riconsegnato ai legittimi proprietari Vediamo come è successo Una decina di biciclette rubate sono state riconsegnate ai legittimi proprietari Questo è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino Un cittadino che ha comunicato ai carabinieri di Fano alla presenza di tre persone sospette All'interno dei capannoni dell'ex zuccherificio Che stavano trasbordando dei sacchi neri per caricarli sul rimorchio Agganciato a sua volta a una monovolume rossa con targa rumena I militari hanno raggiunto immediatamente il posto indicato Ma dell'auto non c'era più traccia Impossibile può individuare la targa in assenza di un sistema di videosorveglianza in città Da un successivo sopralluogo effettuato all'interno dei capannoni abbandonati I militari hanno ritrovato dentro questi sacchi alcune biciclette smontate Nonché vari cerchioni e pneumatici Si tratta della parte di refurtiva che i malviventi non sono riusciti a caricare nel mezzo segnalato E che probabilmente sarebbe stata recuperata in un secondo momento Da qui l'appello dei carabinieri che hanno diramato le foto dei veicoli ritrovati Posti sotto sequestro dopo un primo confronto con le denunce sport È stato possibile restituirle ai proprietari Come ricordato recentemente in una conferenza stampa delle forze dell'ordine È importante denunciare sempre i furti subiti E se possibile fotografare i propri oggetti Per poi riuscire in questi casi a dimostrarne la proprietà Il sindaco di Fano Massimo Seri ha accolto all'arrivo della prima tappa I tanti cittadini che hanno partecipato sabato scorso Alla biciclettata inaugurale della pista ciclabile illuminata Fano-Fosso-Seiore Per promuovere una mobilità sostenibile a favore del cicloturismo Oltre a quella di Fenile Un obiettivo di Seri è quello di realizzare un'altra che colleghi la città della fortuna a Marotta Un investimento ambizioso, ha detto il primo cittadino Che non potrà essere realizzato in questo mandato Ma se si hanno progetti pronti sarà più facile intercettare i fondi necessari E sempre in mattinata sono stati ricevuti in comune i gruppi di Fano e di Rastad Che prendono parte al progetto Foresta Nera-Mare Blu Rivolto alle persone con disabilità Il progetto partito nel 1998 per iniziativa di Paolo Carosa E per conto dell'associazione tedesca Lebenslife Prevede un incontro tra soggetti con diversamente abili Nell'ambito del gemellaggio Grazie a una settimana di soggiorno nella città della fortuna Da parte degli amici tedeschi E come annunciato nei giorni scorsi Oggi sono state rimosse le vele pubblicitarie alla Darsena Borghese Vediamo cosa è accaduto L'ingresso della nostra città deve essere un biglietto da visita Aveva detto il sindaco di Fano Massimo Seri Che riteneva la terrazza superiore della Darsena Borghese Un luogo non idoneo per il posizionamento delle tre vele pubblicitarie istituzionali Così chiamate per la loro forma caratteristica Per questo motivo, così come annunciato ormai da diverso tempo, sono state rimosse Questa è la prima parte Vorremmo anche in seguito ristrutturare, rifare il nuovo manto Ovviamente la cosa non è possibile immediatamente Perché anche se le risorse le abbiamo individuate Però ovviamente con il patto di stabilità abbiamo altre priorità E quando gli obiettivi sono importanti e le azioni sono condivise C'è anche una solidarietà e un aiuto E quindi ecco, vi sentivo di ringraziare Per la sensibilità che il Nautilus ha avuto in questa operazione Il Nautilus infatti ha provveduto allo spostamento delle vele Che serviranno a promuovere gli eventi culturali e turistici patrocinati dal comune di Fano I titolari della ditta, Daniele Filippo Carboni Si sono assunti l'onere anche finanziario del loro trasferimento Le quali dopo un opportuno restauro verranno sistemati entro la prossima settimana a Gimarra Nel parcheggio adiacente alla pista ciclabile posto all'ingresso della città Chiediamo quindi tutte le associazioni sportive, tutti altri organizzatori di eventi, proloco Di pazientare qualche giorno in più per poi vedere che saranno messi in un punto molto molto bello, importante Direi un primo biglietto da visa per tutti coloro che arrivano da Pesaro È un progetto in realtà nato ormai da diverso tempo Sì, sono ormai parecchi anni che abbiamo installato queste strutture in forma di vela Per dare appunto spazio a tutti gli eventi della città e dei paesi limitrofi Pertanto ecco, come diceva mio fratello, fra qualche giorno le sposteremo in una zona meno invasiva di questa qua Che c'era stata appunto data allora E siamo contenti comunque di poterle spostare in questa nuova zona I due fratelli ora lanciano un'idea, cioè quella di dedicare l'aria ai musicisti realizzando un monumento alla musica Interessante, secondo loro potrebbe essere il posizionamento di una panchina simile a quella presente a Cuba con John Lennon Simbolo della pace, dove i turisti si siedono per scattare foto ricordo Se il progetto potesse interessare all'amministrazione, Daniele e Filippo chiederanno ad alcuni amici artisti di realizzare l'opera a cosso zero D'accordo con il pensiero del sindaco Seri e soddisfatti per la rimozione delle vele Sono diversi cittadini che da tempo chiedono di migliorare il decoro nei punti più suggestivi della città Un primo traguardo raggiunto in particolare per Vincenzina Turiani Che si è sempre battuta per valorizzare la Darsina e allo stesso tempo per liberare il balcone da tali strutture pubblicitarie Abbiamo un patrimonio storico da difendere, ha detto Turiani E questo è il minimo che una città possa fare Un piccolo passo che lo aspettiamo da un anno e come aveva promesso il sindaco ci siamo riusciti Quando io esco per criticare non è mai una critica verso qualcuno È uno stimolo per poter far meglio Perché io credo che si possa fare meglio, piccoli passi ma ci si arriva Quello che mi piace adesso, mi piacerebbe, è riqualificare tutta la zona Perché togliere quelle tavole, risistemare il terrazzo, togliere tutto quell'incuria che c'è stata per anni, riqualificare i fregi che ci sono sotto Perché vale la pena di riportarlo, non togliendo solo le vele ma proprio tutto un assetto diverso La mia battaglia l'ho fatta, non sarà solo questa Se qualcuno dice adesso da stessita Ence Stag Perché ci sono altre cose da vedere E spero che la gente noti che quando si vuole qualche cosa si ottiene E continuiamo a parlare di eventi e dei manifestazioni musicali Però spostiamoci in regione Perché la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo Moreno Pieroni Ha proposto ai comuni marchigiani per tutto il 2015 La possibilità di far svolgere attività accessorie agli stabilimenti balneari Come la somministrazione di alimenti e bevande E gli intrattenimenti musicali e danzanti Nel rispetto di tutela ambientale, urbana e dell'ordine della sicurezza pubblica Per quanto riguarda invece i saldi estivi Nelle Marche prenderanno il via il prossimo 3 luglio Lo ha deliberato questa mattina la giunta nel corso della consueta seduta settimanale Eventi che riguardano la città di Fano Siamo all'arena BCC di Tre Ponti Il Festival della Comicità questa sera alle ore 21 darà il via al ricco cartellone di Teatro Sotto le Stelle La sesta edizione prevede infatti ben 25 serate Tra spettacoli di danza, spettacoli dialettali, comici, concerti E la proiezione del film Made in Fano, Gli Sbancati Bene, questo era tutto per l'informazione questa sera Grazie per essere stati in nostra compagnia Il Tg naturalmente torna domani sera se vorrete qui puntualmente alle 20.30 Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi